Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Archevi Parla, siamo qui con alcune informazioni secondo me molto molto interessanti di cui discutere che abbiamo in realtà già fatto magari altre volte in passato con argomenti differenti che sia appunto il numero di giocatori presenti su un cod che si dedicano soltanto a zombie piuttosto che al multiplayer oggi si può discutere anche di Warzone e ricordo che un tempo feci un video riguardante quanta gente completa gli easter egg che già quello numericamente o percentualmente parlando era molto interessante ma qua invece ci sono dei numeri e delle percentuali veramente precise che ci vengono forniti da un ex sviluppatore, il che è molto interessante la cosa parte da Twitter da Charlie Intel che conferma che sul cod di quest'anno a Modern Warfare 2 non c'è una modalità zombie, cosa che comunque sapevamo ma è importante avere la conferma su Mv2 ci sarà Campagna, Multis, Spec Ops e un'altra modalità chiamata teoricamente DMZ di cui al momento non si sa praticamente nulla arriva quindi qui a gamba tesa Brian Bright che per chi non lo sapesse era uno dei principal designer principali a Infinity Ward che ha creato la modalità Special Ops Chaos su Modern Warfare 3 estinzione su Ghost ed era inizialmente il project director di Zombie prima che invece il titolo passasse a Lee Ross che è letteralmente reso famosissimo Infinity Warfare probabilmente per la follia degli easter egg e del super easter egg e anche per la storia Brian Bright ha lasciato Infinity Ward a gennaio 2021 e penso che sia un pochino nello stesso periodo di Lee Ross che tempo fa appunto ha lasciato Infinity Ward e si stanno invece dedicando entrambi ad altri progetti beh quali sono i numeri e le percentuali che Brian Bright ci dà su Twitter? bene dice che dopo 7 mesi di Infinity Warfare lo split tra i giocatori di zombie e multiplayer era 60% per zombie 40% per multiplayer cosa mai successa in nessun altro code zombie dato che nello zombie di Treyarch invece la percentuali di giocatori di zombie è circa il 20-30% ci continuo a dire che dopo il quarto di le C probabilmente di Infinity Warfare questo split era ancora più in favore di zombie invece che del multiplayer ci dà anche altre informazioni per code precedenti per cui tipo estinzione andava molto meglio della sopravvivenza di Advanced Warfare che all'inizio c'era soltanto quella exo zombie arrivato con IDLC però dice che più avanti proprio exo zombie ha fatto più o meno le stesse percentuali e numeri di estinzione allora questi sono comunque numeri molto molto interessanti e sono chiaramente a favore di Infinity Warfare che per quanto sia un titolo secondo me ancora un po' sottovalutato è un ottimo ottimo zombie e quell'anno si vede che l'attenzione al gioco sia per sviluppatori e community era molto molto alta cosa che invece sui Treyarch zombie se il 20-30% dei giocatori poi non so quale zombie in specifico perché sono sicuro che con i capitoli un pochino questi numeri siano cambiati è comunque secondo me soltanto indicativo c'è da considerare punto 1 il numero veramente gigante di giocatori perché per Infinity Warfare che sappiamo tutti essere un capitolo andato veramente male sono sicuro che il numero di player totali era magari più basso di un Black Ops 3 dove per dire se il numero di giocatori è il doppio tirando un numero esagerato il 20-30% dei giocatori di zombie è comunque magari un numero più elevato di quelli che erano i giocatori di zombie su Infinity Warfare e chiaramente questi numeri col tempo cambiano come dice anche lui dopo il DLC 4 lo split era ancora più in favore di zombie mentre il multiplayer sempre meno giocato oltre a questo c'è da considerare che il multiplayer di Black Ops 3 è stato molto più amato per quanto fosse anche quello futuristico ed era il capitolo precedente a Infinity Warfare e non soltanto questo assieme al lancio di Infinity Warfare ricordo sempre il lancio di Modern Warfare Remastered che tantissima gente ha giocato molto di più di Infinity Warfare o ha giocato soltanto quello invece che Infinity Warfare questo quindi ha lasciato il gioco in un momento di baratro in cui il multiplayer ha giocato probabilmente il giusto o abbandonato molto molto in fretta in favore dei Modern Warfare Remastered per zombie invece c'era soltanto quello mentre in attesa qualcuno magari giocava ancora a Black Ops 3 si aspettava Zombie Chronicles ma per il momento lo zombie attuale era chiaramente Infinity Warfare e per chi l'ha giocato era chiaramente un ottimo capitolo e così è diventato sempre meglio specialmente alla fine con il DLC 4 in seguito il Super Easter Egg quello quindi che voglio dire è per quanto questi numeri siano molto molto interessanti ed è bello riceverli da un ex sviluppatore che i numeri li vede proprio nel concreto e non sono tirati totalmente a caso tutto va secondo me contestualizzato sono sicuro che i code di Treyarch assieme ai Modern Warfare di Infinity War sono alcuni dei titoli più giocati in assoluto e con la community più grande senza considerare oggi Warzone che è una cosa totalmente distaccata e ovviamente gratuita però mi fa pensare anche al periodo d'oro di Black Ops 2 o Black Ops 3 dove tantissima gente giocava a code in generale tantissima gente giocava al multi ma tantissima gente giocava a zombie per cui appunto se il numero totale dei player è altissimo anche se la percentuale dei player di zombie è minore numericamente parlando sono molto molto di più e appunto io penso a Black Ops 2 ma specialmente a Black Ops 3 dove a un certo punto la concentrazione proprio dedicata a zombie che fosse per i contenuti, le news o altro era praticamente in pari col multigiocatore e per quanto magari in percentuale i giocatori di zombie fossero di meno si vedeva che appunto spostavano molta più community facevano parlare di sé molto di più e forse le map venivano anche più giocate e in generale magari in questi Black Ops c'era gente che ovviamente giocava entrambe le modalità cosa che invece su Infinity Warfare era più improbabile molta gente magari giocava un po' al multi un po' a zombie e un po' al multi di Modern Warfare Remastered o giocava soltanto al multi di Modern Warfare Remastered e tornava poi su Infinity Warfare soltanto per zombie quindi in percentuale questa gente era soltanto player di zombie quando in realtà il multi lo volevano giocare soltanto non su Infinity Warfare è una cosa un pochino strana e stiamo un pochino parlando del nulla perché sono anche capitoli a questo punto relativamente vecchi non abbiamo invece numeri per dire di Vanguard adesso di Cold War o robe simili che appunto in percentuale sarebbero molto più interessanti ma anche perché oggi COD è strutturato molto di più per poter essere distribuito totalmente in diverse modalità quindi che tu stia giocando zombie, multi, warzone in qualunque dei capitoli recenti stai comunque ottenendo diciamo gli stessi risultati stai livellando lo stesso battle pass, le stesse armi, lo stesso livello profilo qui alla fine non ti stai perdendo praticamente niente quindi la separazione dei player adesso è un pochino più sottile perché sì, qualcuno sta giocando a zombie che sia Vanguard o Cold War quindi è un player di zombie ma magari in realtà vorrebbe giocare al multi ma zombie è molto comodo magari per livellare qualche arma per livellare in fretta il battle pass o anche giusto per cambiare un attimo modalità e non fare sempre le stesse cose in più oggi le modalità assomigliano molto perché tantissime meccaniche inserite su Cold War o Vanguard ho sempre pensato appunto siano riprese apposta da multiplayer o warzone anche per attirare appunto più giocatori che sono abituate a quelle meccaniche e quello stile di gioco e possono avvicinarsi molto più facilmente a zombie senza incontrare un muro di difficoltà o stranezza che invece magari allontanava tantissimo ai tempi di Black Ops 3 Infinite Warfare o anche prima per quanto riguarda invece la fine parlando di estinzione, sopravvivenza di Advanced Warfare ed Exo Zombie lì la cosa è un pochino diversa Brian Bright stesso ha detto che la gente preferisce gli zombie a sparare a soldati controllati dall'intelligenza artificiale o agli alieni estinzione in generale era una delle primissime modalità totalmente diverse la gente invece era ancora molto fissata con zombie e si è ottenuto invece più avanti il problema opposto che con tutte le modalità zombie che hanno messo tra Exo Zombie, Infinite Warfare e World War 2 la gente addirittura si è stufata e soltanto anni dopo tante persone hanno visto appunto il potenziale di estinzione perché era una terza modalità totalmente diversa e non per forza a round ma qualcosa di leggermente più alternativo che secondo me funzionava veramente bene e in più sopravvivenza magari di Advanced Warfare qualcuno la poteva magari confrontare a quella di MV3 che era secondo me molto superiore o come sempre magari a qualcuno non piace il movimento Exo come a me e tutte queste cose in conclusione per quanto siano numeri interessanti e belle discussioni da fare alla fine dei conti sono tutti quanti numeri non dico campati in aria perché è totalmente sbagliato ma che gli interessano veramente il giusto tante cose dipendono dal contesto, dalla situazione e anche se fossimo in tre cani a giocare a zombie finché ci danno dei contenuti e ci supportano bene il gioco io comunque ne sarei contento abbiamo avuto tantissimi anni in cui la community ha fatto un roller coaster quindi tantissimi giocatori, poi momenti morti COD e zombie in generale avrò sentito sono morti da decenni a questo punto a me interessa veramente poco il gioco continua ad andare avanti e sono sicuro che con Cold War avesse avuto una bellissima ripresa a modalità zombie purtroppo con Vanguard non dico l'abbiamo annullata ma hanno fatto dei danni che sperando possano essere risanati in futuro con contenuti e giochi fatti veramente come si deve perché la community di zombie c'è e è attiva e anche se soltanto un 20-30% dei giocatori è comunque un terzo della community non siamo proprio in due cani in totale qui ragazzi voi sapere come sempre tutte quante le vostre opinioni per chi si aspettava numeri simili per quanto riguarda i code Treyarch, Infinite Warfare qualcosa per quanto riguarda anche Estinzione, Advanced Warfare appunto tutte queste cose dipendono dal code stesso come è stato gestito, quali fossero i contenuti e secondo me anche qual era magari il code precedente e quello successivo Infinite Warfare è uscito subito dopo Black Ops 3 quindi è un attimo anche come è stato Vanguard dopo Cold War c'era l'attenzione per zombie c'era voglia di vedere altro zombie che in questo caso per quanto non fosse Treyarch aveva comunque del potenziale e magari qualcuno era anche soltanto curioso o altre persone invece proprio non l'hanno giocato perché non era Treyarch il video quindi si conclude qui spero come sempre che vi sia piaciuto e vi sia stato utile tutti quanti i link a questa discussione sono qui sotto in descrizione trovate anche tutti quanti i link per i miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio alla